Sono 34.283 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, su 234.834 tamponi eseguiti, 26.000 più di ieri. In aumento il numero delle vittime, oggi 753, mai così tante nella seconda ondata della pandemia. I nuovi positivi rispetto a ieri sono aumentati di quasi 2.000 unità, mentre i morti sono aumentati di 22 unità. Le terapie intensive crescono di 58 unità, gli eri 120, mentre i ricoveri nei reparti covid di 430, per un totale di 33.504. I guariti e i dimessi sono 24.169 nelle ultime 24 ore. La regione più colpita resta la Lombardia, con 7.633 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 3.657 e dal Piemonte con 3.281.